chi l'avrebbe mai detto? Bravissimo, bravissimo questo potrebbe... no, per te andrebbe bene Federico sì, sì, sì no, no, perché io pensavo di fare 100 metri, di fare una gara di 100 metri e tu vai dietro con questo sì, perfetto non succede agli olimpiadi che hanno investito? perfetto, perfetto allora questi, come dicevamo, sono gli amici che arrivano direttamente da Chions che ci portano nel mondo di facce da cinema il gruppo comitato Chions Tutti Insieme è un gruppo della Proloco di Chions per il carnevale che si attiva allargandosi anche a componenti di altri gruppi unendo le forze, pensate, il comitato come attualmente strutturato è nato in preparazione del carnevale 1991 e quindi qua abbiamo facce da cinema il gruppo rende omaggio ai celebri, copie celebre attori e copie celebri italiani del mondo dei film a Gitarre infatti troviamo Odò, Odò, Terio e Olio Peppone, Don Camillo, Alberto Sorghi, Franco Franchi, Cicci e Grassia quindi abbiamo tanti personaggi che ci richiamano ecco, questa è la macchina elettrica del futuro Chions che ci vanno di solito al mercato tutti i giorni e qua naturalmente eccoli qua quando faccio da cinema vedete vari personaggi che ci richiamano il mondo con naturalmente anche, a ricordo anche del famosissimo Federico Fellini quindi un grande regista che ha reso nota e famosa nella nostra bella Italia e adesso ci abbiamo Stelio e Olio guarda che bello che è wow, oggi abbiamo ospitoni non solo sul palco anche giù, ma sì, sì, sì quindi sono personaggi sono personaggi ce ne ho pure Totò ce ne ho pure Totò che ci richiama in questo in questo mondo di Italia è un bastone che ogni tanto richiamava che se le davano di santa ragione lui lo conservava quando c'è il film, c'è il famoso film che finiscono tutti e due a Roma uno Monsignore e l'altro L'Orevole estrae da un cassetto il famoso bastone con il quale lo aveva nominato e gli ha detto un legno dolce ma fa bene esatto, esatto, esatto e quindi stanno arrivando, stanno arrivando anche il carro tra l'altro con dei giochi di luce anche questo carro quindi una particolarità è anche questa ci sono state anche, ricordiamo, loro perci delle sfilate in notturno esatto, abbiamo avuto Santa Lucia abbiamo avuto diversi altri appuntamenti e quindi chiaramente alcuni carri sono attrezzati proprio per fare la esibizione notturna e qua abbiamo le varie facce dicevamo Petrao Stanguoglio Petrone Don Canile Alberto Sordi Franco Fracci molto grazie a tutti alcuni dei carconati e qui abbiamo avuto il porto di ballo qui davanti al palco è tutto l'opan Gangnam Star